Mister, un vero peccato perché per volume di gioco, numero di occasioni da gol, predominio territoriale, anche il pareggio sarebbe stato stretto o esagera? No, è andata così, c'è grande dispiacere perché penso che contro un Sassolo che mette tutti in difficoltà, poi magari non vince per altre cose, oggi penso che abbiamo fatto molto meglio, anche il pareggio secondo me sarebbe stato stretto, però è così, abbiamo fatto anche dei regali, ha sbagliato tante occasioni, però oggi c'è grande ellas, secondo me, poi grande dispiacere per non aver fatto risultato, credevo in tre punti fermamente perché penso che abbiamo molta più energia, molto più gioco, molto più tutto e l'abbiamo regalato a terzo e poi è andato tutto male. E' assolutamente positivo anche dopo una sconfitta il fatto che sia cresciuto il livello delle prestazioni anche oggi, una conferma in tal senso? No, noi contro Milan penso che volevamo fare tanto, ma grande merito del Milan che si è visto a Manchester, sono a un altro livello e quando trovi squadre che sono a un altro livello e hanno mentalità, quella di difendere, di lottare diventa più difficile, anche se noi non eravamo brillantissimi, oggi è stato, penso, solito ellas degli ultimi mesi, dove ha fatto la prestazione, dove ha fatto tutto quello che doveva, con tutti gli errori che fa una squadra come ellas, però bene. Ti aspettavi questo Sassuolo che è quasi, come ha giocato, è quasi un implicito merito, riconoscimento di forza nei confronti della tua squadra perché ha pressato di meno, ha giocato meno alto, vi ha aspettato anche di più? No, non lo so, questo non lo so, io penso che noi andavamo di più, sia a livello di gioco, sia a livello di pressing, di aggressione, che dominavamo la partita, specialmente il secondo tempo, man mano il tempo passava, eravamo sempre più forti, quello che mi dispiace, dai quando succedono queste partite, anche l'anno scorso, anche l'andata, vincono loro, amen, però mi rimane grande l'amarico in bocca, ma oggi veramente grande. Grazie a tutti.